Nelle residenze assistenziali è affetto da moltissime patologie, è molto anziano, è affetto da moltissime patologie e queste potrebbero in qualche modo rappresentare dal punto di vista della prevalenza, cioè della frequenza in cui si trovano, le più importanti riferimenti. Cito tra queste appunto il diabete melletto, lo scompenso cardiaco, la fibrillazione atriale, le trombosi, le infezioni e in questo manuale chi lo leggerà potrà trovare delle risposte pratiche per l'attività di tutti i giorni, ma anche degli stimoli culturali di riferimento da cui partire per fare un'analisi. L'obiettivo in qualche modo è di dare un aggancio a chi lavora all'interno della residenza e non farli sentire più isolati, più soli, ma provare a elevare la sensibilità attorno a questo problema.